Sottolineando ovviamente il valore che potenzialmente può avere questo progetto di legge che andiamo a discutere oggi, come sappiamo parte della nostra riviera ha bisogno di interventi di riqualificazione, ha bisogno di interventi di rinnovamento, abbiamo una situazione che riguarda alcune parti della nostra riviera, all'interno della nostra riviera abbiamo alcune parti all'interno delle nostre città, parlo da riminese, soprattutto nella zona Rimini-Riccione abbiamo alcune frazioni note un tempo per il proprio valore turistico, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza delle famiglie che oggi purtroppo non versano in condizioni eccellenti, che negli anni hanno visto un certo declino. Questo progetto di legge effettivamente potrebbe dare un rilancio anche a quelle zone che oggi necessitano di maggiore intervento e di maggiore riqualificazione, soprattutto per quanto riguarda le colonie. C'è un rischio, però noi abbiamo depositato qualche emendamento per cercare di dare un contributo a questo progetto di legge, mi riferisco ad esempio al discorso della gestione unitaria, abbiamo notato che nell'articolo che riguarda la gestione del condotel non viene riportato il vincolo decennale che ad esempio è riportato all'interno del DPCM. L'abbiamo voluto inserire mettendo un almeno 10 anni naturalmente lasciando poi anche eventualmente la possibilità di prolungare questo periodo, questo per evitare che qualora un domani il DPCM venisse cambiato poi in realtà si andasse al ribasso e quindi in riferimento alla normativa nazionale non mettesse più in condizione i comuni di poter garantire una certa durata nel tempo della gestione unitaria con anche il rischio ovviamente di cambiamenti impropri di destinazioni d'uso dell'immobile. Abbiamo presentato anche un ordine del giorno che chiede alla Giunta di monitorare attentamente quelle che saranno poi le future gestioni dei condotel perché altro problema che purtroppo attanaglia la nostra riviera soprattutto in determinate zone con elevata concentrazione alberghiera è quello delle potenziali infiltrazioni malavitose quindi anche con in questo caso un eventuale uso improprio sia della parte alberghiera che della parte residenziale chiamiamola così. Quindi abbiamo inserito tra gli emendamenti anche una clausola valutativa perché ci sembra corretto che poi comunque questa legge visto che si tratta di una novità anche importante e rilevante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di rigenerazione urbana delle nostre città riteniamo che comunque si debba andare a fare nel tempo una valutazione per poter apportare eventualmente i correttivi necessari nel momento in cui si dovessero trovare delle criticità in fase di applicazione e insomma ripeto abbiamo cercato di contribuire al miglioramento di questo che potrebbe diventare un progetto di legge che porta sul territorio un rinnovamento e mi auguro io lo spero una riqualificazione dell'offerta turistica perché è giusto parlare di numeri, è giusto parlare di arrivi, è giusto parlare di presenze però bisogna anche guardare a quale tipo di turismo ci vogliamo rivolgere. Il turismo anche quello di massa che è caratteristico dell'offerta turistica della nostra regione nella parte costiera è ovviamente quello che storicamente ci ha caratterizzati e distinti anche da altre parti d'Italia però anche il turismo di massa negli anni è cambiato bisogna cercare di non dequalificare l'offerta turistica ma appunto elevare l'offerta turistica in modo tale che sì possano arrivare tante persone all'interno della nostra regione ma persone che poi effettivamente diano un contributo a tutto l'indotto e portino maggiore ricchezza sui nostri territori.